È stata una cosa avvilente, per uno che ha passato la vita a difendere il lavoro e l'ambiente, sentirsi un'altra parte di avere avvilente. Me l'ho anche detto a quel tale che minacciava. È una cosa inutile, stupida, non serve a niente. Il processo è ampiamente avviato. Ci sono decine di fascicoli, ci sono decine di migliaia di pagine, di indagini, per cui che cosa servirebbe? Cercare di intimidare, io non lo sono affatto, cercare di intimidare Balsa, Rossi, gli avvocati, i giornalisti. Quello che avrebbe fatto e dovrebbero fare i lavoratori è quello di fare pressioni, legali ovviamente, non minatorie, nei confronti dell'azienda che devono garantire il posto di lavoro bonificando.